Ciao, mi chiamo Vincenzo, sono un imprenditore digitale, mi occupo di affiliazioni ed SMMA. Prima di questo lavoravo come dipendente qui nella mia città al porto per 12 ore al giorno e purtroppo tante volte sottopagato. Ho scelto di acquistare il corso All In perché mi sembrava un corso che mi potesse far sviluppare tutte quelle competenze che mi permettessero di lavorare nel marketing digitale. E mi sono affacciato al mondo del marketing digitale più per curiosità che per altro, perché praticamente vedevo sul web tantissime persone, anche molto più giovani di me, che riuscivano a portare a casa ogni mese un ottimo guadagno, pur lavorando da casa, il che a me non sembrava vero. E quindi questa mia curiosità mi ha spinto ad approfondire la conoscenza del marketing digitale. Questa mia curiosità mi ha portato a conoscere Matteo su YouTube. Infatti un giorno vidi un suo video e da lì mi piacque subito. Uno per la sua simpatia, due per la sua grande competenza e tre perché mi rispecchiavo molto in lui. Perché Matteo in tanti video racconta anche della sua storia personale e quindi sembrava come se stesse parlando direttamente a me. E quindi ho deciso fin da subito di seguire lui. Iniziai così a vedere tutti i video presenti sul suo canale e qualche mese dopo acquistai, come ho detto prima, il corso all-in. A rinizio non è stato tanto facile perché comunque io non avevo esperienza. Però man mano i vari concetti spiegati da Matteo iniziavano ad entrarmi in testa, fino a quando poi non iniziavo ad applicarli sul campo. I primi mesi non sono stati facili, infatti non ho avuto tanti risultati. Però continuando a fare esperienza, a fare i miei due concetti, sono riuscito a generare i primi guadagni mensili. Per i primi sei mesi i guadagni non erano stabili, però come per magia dal settimo mese in poi questi guadagni sono diventati stabili. E a oggi, grazie a quei due settori che ti ho detto precedentemente, quindi affiliazioni ed SMMA, riesco ad avere mensilmente delle entrate che mi permettono di poter lavorare online e quindi da casa. Quindi tu che stai vedendo questo video, ti consiglio con tutto il cuore di acquistare il corso all-in, perché a parte è un corso validissimo, tratta di tantissimi argomenti che non trovi su internet. Sono argomenti validi, il corso poi è sempre in aggiornamento, quindi non corri il rischio di restare indietro. Oltre al corso poi c'è anche la community di supporto che ti dà una mano, quindi non esitare, prendi il corso all-in perché potrebbe veramente cambiarti la vita. Io per adesso ti saluto e buon business!